Salve e bentornati dal vostro nero di fiducia Anche se l'altra volta non eravamo neri ma questa volta si Comunque bene, salve e bentornati, siamo in un nuovo video Di Statue of the Kai 2 E niente, il primo è andato molto bene Non me l'aspettavo, ora voglio vedere Fast fast se carica Mannaggia non carica, danna c'è Comunque è andato molto bene, io speravo Ma non me l'aspettavo E niente, è andato molto bene Speriamo che anche questo vada come Insomma tutti gli altri vadino come il primo e niente Allora Diciamo, allora, sono cambiate un po' di cosette Quel microfono l'ho rimpostato un po' meglio E quindi quando parlo poi sto zitto A un certo punto sentito un po' di fruscio e poi niente E l'altra volta era troppo alto E non me ne era accorto E mi avete dato qualche consiglio Nell'ultimo video in base all'editing e le cose Ora voglio provare a fare mezz'ora di video Ogni video di Statue of the Kai sarà di mezz'ora Però senza tagli Cioè quello che facciamo facciamo Vediamo un po' quello che succede Ora vediamo se c'è da tagliare si taglia Comunque Siamo in una nuova casa Che è su un ponte Prima eravamo qua Adesso siamo di qua e mi voglio spostare Però voglio andare a distruggere questi Tre massi infetti Più voglio andare qua sopra E quindi Niente andiamo a distruggere Intanto quei due se ci riesco Qui i colpi ne ho dieci Non credo che mi bastino Quindi dovrei cambiare il personaggio Vediamo Vediamo un pochettino Comunità Ah lei è stanca Perché lei è utile Fammi vedere Madonna quanto è stanca No niente Scherzavo Scherzavo Tevis No Ernesto Ah Ernesto può imparare Mi può impararlo Ah no ok Ok lui si colpi lì Ah dai forse ne ho altri nel coso Quindi si scende E poi Sta cosa è un po' baggata Perché ogni tanto ci clicco Ma mi cade Invece di Di salire sulla scala Si butta giù E si fa malissimo Allora Apriamo qua Ehm Mi servono i 7.62 Eccole qua Allora via questo Altre 7.62 Perfetto Poi ho trovato altre armi Tipo questo fucile Calibro .50 Perforanti Quindi questo Contro i juggerna Dovrebbero essere Delle super chicche Ok a posto Poi voglio far vedere Un pochettino qua Che va tutto bene A parte le infestazioni Queste si levano easy Siamo al morale Questa volta Super felici Infatti mi da anche i bonus Per il livello del morale E niente Mi voglio tenere Fino a 3500 Di Come si chiamano Di Oddio D'influenza Perché so che c'è una base Niente male Però dovrei andarla a ricercare Quindi in questo video Credo faremo Quasi tutti I cosi I ammassi Che ci mancano E poi vediamo Se ci avanza tempo Facciamo qualcos'altro Allora Vediamo se ho Qualche esplosivo Da qualche parte Allora Bomba a benzina La mina Una scatola di cartone Prende D'influenza Un'attivata 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 Ok Prendo anche questo Prendo anche il C4 Le molotov Assolutamente Ehm Prendo Due flaconi stimolanti Potenzione Ehm Ok scusa Ehm Tubo esplosivo Poi c'è altro Ok Le bombe di lattina Raso Segnalazione stradale Lo lasciamo lì Altre molotov E le granate Di termite Questo dovrebbero fare Un botto di male Ok Poi la macchina Ce l'abbiamo di qua Sì Tutte le macchine Quelle più belle Ce l'abbiamo di qua E la madonna E cazzo Quanti zombie Ci sono qui fuori Cazzo Muori Bravo Grande Ok credo che quello Me li ammazzi tutti Allora Potremmo usare questo Perché tanto Quello che mi interessa È Andare a distruggere I cosi Eh Però Ok la benzina Ce l'ho Quindi buttiamo via La bomba Carta Lì E non voglio guidarlo Mannaggia Quindi teoricamente Adesso anche Perché Mi sono riguardato Un po' Il video vecchio E non mi piaceva Il fatto che si sentiva Molto il fruscio Nonostante avevo cercato Di rimuoverlo tutto E Il click Del mouse Fastidiosissimo Era Quindi spero Di riuscire Insomma Con questa cosa Che si sia sistemato Meglio Eh spero sia Cioè credo sia meglio Eh poi ditemi Se vi dà fastidio Il fatto che si sente Il fruscio Che poi calla Piano piano Se si nota Non lo so Quindi ricordate Che Qualsiasi Ecco Un'altra Ok Qualsiasi consiglio È ben accetto Però cazzo È bella la seconda Che mi ritrovo qui Cazzo Eh pure le bombette Grande Allora Lì c'è un Cosa Che non mi piace Cazzo Che è uno Spawn Di queste Macchine Niente male Eh Dove Allora Visto che Questa è messa Meglio Direi Di Prendere La benzina Da questa E buttarla Di là E poi Prendo Le bombette E niente Sono andato fuori schermo Ogni volta Che c'è schermo intero Ma mi va il mouse fuori Ok Prendiamo questa Che è messa meglio Quindi se prendiamo Qualche zombie Non rischiamo di scoppiare Ok Così con questa Si fa tutto Molto più easy Ciao Salve Raduno Del vicinato Scusami Erano là Ok Si una è di là Che tra l'altro L'ho segnato Malissimo Allora Aspetta 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 Cazzo Quanti ce ne sono Oh madonna Oh madonna Merda Mi si sta rompendo Anche i cruchi Allora Cazzo Ce ne sono Oh livello massimo Anche del tiro Pure del combattimento Ok Sblocca Inceppamenti L'armi da fuoco Miro la solidità Rincolo Le donne D'attacco Con calcio Sbloccato Se si è in mira Ma si dai E combattimento Come sempre Faccio Armi contundenti No Ah no Schianto Questo L'ho messo in tutti L'ho messo anche in lui Ok Via Come Merda Che arrivano tutti Cazzo Oh Cazzo Oddio Ok Ok forse passerei Alle molotov Nacce Dai che ci sono Quasi Ok E uno è andato Quante altre esplosive Uno non ce lo facciamo Quindi dobbiamo andare Dovrei fabbricarne un po' Dai si sta facendo anche buio Io volevo cercare di fare tutto il video di giorno Ciao Ciao Aspetta dove sbuchi Ne sento un altro Guarda che ti sento Allora Allora Vabbè dai lo prendiamo Vabbè dai lo prendiamo Veromale lo buttiamo da qualche parte Madonna Una cassa Dov'è Boh vabbè Visto il cicare Ci ho visto giusto Non ci ho visto giusto C'è un punto esclamativo Ciò significa Serve a qualcuno Per una missione O sonculo Madonna 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 anche quello Caputana Ok il prossimo E' qua Io però C'ho solo Due C4 Due bombe in lattina Non ce la faccio con questi E si vede ancora il mouse Quindi direi Che saliamo in macchina Ce ne torniamo a casetta Posiamo le cose E vediamo un po' il da farsi Vediamo se riesco a creare Più Anche molotov Posso fare tante molotov Perché se non mi sbaglio Ogni Uno Di Gasolio Mi fa O sei O tre molotov Forse sei E non sarebbe affatto male Ecco E non Cosa 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 Quelli non si sono accorti di niente Meglio così Guarda lì Tutto il mio set di macchinine carine Allora chiudiamola perché poi i zombie ci entrano Ho soppreso il bisognoso E gli devo dare No No Parlo con il numero dell'area del suo gruppo dei materiali Ok Allora visto che comunque ne ho 38 e non sono pochi Li metto qua Almeno spero di ricordarmelo Già ma non avevo messo delle bombe qui Sì Eh sì Ok Allora Tutto via questo Questo assolutamente Questo Questo non mi può servire Uno di benzina Il C4 si tiene Vediamo se ho qualche altro esplosivo a disposizione Le smoke non mi servono a niente No Quindi qua Fabbrico oggetti consumabili Sei molotov Ah per due Ok Mi da tre bombe lattine Le voglio fare Assolutamente Ne faccio un po' Tanto munizione ne abbiamo un sacco Ne utilizziamo due al giorno E Non se ne trovano poche sinceramente Quindi ok E Anche 12 molotov Perfetto Ok Levo queste Levo il C4 Le molotov Uno Due Perfetto così Ma già aspetta però Facciamo Secondo una cosa Allora vorrei alzare la gamma Così forse ci vedete meglio Conferma Ok Ditemi se è servito Eh Poi Perché Si sa come è un po' Youtube con ste cose Ok Quindi prendo queste Perché devo buttare via la smoke Metterci Questo Madonna le operazioni notturne Questo via abbiamo detto Queste bombette C'è qualcuno che posso portare con me Posso portare Tevis Tevis No no dove vai Prego Andiamo Si dai Poi le infestazioni le facciamo Se In questo video C'è tempo Siamo già a 20 minuti Poi ditemelo se vi piacciono Senza tagli Come praticamente Quelli di Tarkov Ci sono veramente cose Stralunghe Che allora Devo Devo tagliare per forza O se no Non taglio Insomma Quindi ditemi se vi piacciono Così Poi teoricamente Tra un po' Dovrebbero migliorare Nettamente la qualità Dei video Perché Appena mettono la fibra Nel locale Dove lavoro Uso Quella lì Per caricare i video Quindi li faccio più di qualità Se pesano Tanto Sti cazzi Eh Cazzo Li sali Sali che li schiacciano tutti No Corri via Morca puttana Vaffanculo Non l'avevo visto Ok Si vede dalla finestra No Da quest'altra No Ok Dobbiamo entrare Eccolo qua Cazzo Cazzo Eh Vaffanculo No Vieni fuori Da lì Levati Ottimo Vai così Madonna Se mi hanno fatto male Quei bastardi Sarei curioso Di vedere Come sta Tevis Adesso Uh Grazie Ok Vediamo No Sbaglia Ok Parla Passa Ok Voglia La differenza Come si vede Teoricamente Spero si veda bene Teoricamente Si dovrebbe Comunque Come sempre Ditemi Se ne volete ancora Di video Perché Cioè Sicuramente Se va Come Quello Prima Ne porto ancora Sicuro Al 100% Sicuro 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 E poi Non vedo L'ora Di sta Fibra Meh Ok Ce n'è Un altro Qua Ci andiamo Subito Senza Pensarci Due Volte Allora Poi ci sono Un po' Di pilloline Da prendere Ed è là Ok Ok Visto La strada Che devo Fare Mi hanno detto Qua era Si Eh la madonna Quanto Niente Attaccare Uh ci sono Delle infestazioni Qua Vabbè Vabbè Non Visto che Questo video Era dedicato Sopra Eh si Sopra Era dedicato Agli ammassi Infetti Andiamo a farcelo Cazzo quanti E te Da terra Ok Si va a piedi Ah Qua siamo Dove dovevo Ritornare Pure Perché c'era Un'armeria Che mi sembra Non avevo finito Di controllare E lì c'è un coso Di Vestiti militari Non so cosa ci potrei trovare Forse ancora armi Allora In quale è Eccolo lì Dia bomba a manetta Bravo pensaci te Yes Facile Non mi aspettavo Di farli così Velocemente Cazzo Cazzo Aia Che male Casino Ciao Ok Allora Dovrei cercare Un pochettino Per qualche cura Magari C'è altro Che si può trovare Qualcosa Qui Ok 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 In scema Oh Atletica Maratone Sicurano sprint Costa meno resistenza Eh Non leggo Se mi continua A dare qualcosa Dio santo Capito Che con un posso farlo Potenza Riduce il colso In resistenza Della mischia Del corpo al corpo E delle mosse finali Ok Mi serve Ciò con Eddie Mi sembra Che corro In fin Cioè Non uso stamina Quando corro E con lui Uso quest'altro Comunque Boia Con questa gamma Si vede bene La gamma al massimo Salve Ok Ok Era lì E infatti Sentivo Bella mia Guardia del corpo Lui Allora Punto 22 Che Gne Non mi servono Visto che sono Full Visto anche Se ne è andato Bravo Grande Passiamo a lui Così Così almeno Se ci sono altre cose Armi Si spera Allora Questo fa comodo E vado io Eh Entrambi Vai vai Finisci Eccoci là Uh Cazzo quanti Finito Dai Non c'è più niente Davvero Ok Mi ripasso a lui Allora A quanto siamo A 28 minuti Che si fa Ce la facciamo Ad andare a distruggere Uno di quelli Andiamo a distruggere Quei Perché ce ne abbiamo Davvero tanti Uno due tre Sono ancora cinque Sono ancora tanti Quindi credo che Ne andiamo a distruggere Uno E poi si chiude Cioè è davvero bello Cioè davvero bello Con questa gamma Mi vedo bene Tutto intorno Si vede bene Si vede bene Tipo se spengevo la luce Con la gamma Come era prima Non si vedeva Un cazzo Quindi Meno male Si può settare La gamma Via Ci sono quei giochi In cui devi andare Tramite le impostazioni Del cazzo Cioè impostazioni Come si chiama La console Vaffanculo Eeeh Come drifta L'ho cliccato poco Allora C'è uno screamer Che mi sta sul cazzo E bisogna ucciderlo Eccolo Lo sapevo Ok Devo fare solo quello Solo uccidere quello Scli Muah Vieni Risali in macchina Amico Andiamo a fare L'altro Questo è qui Eh What the hell Un cazzo Erano tre Fatto anche questo Ottimo 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 direi Quindi Niente Siamo arrivati Alla nostra mezz'ora Abbiamo fatto Quello che dovevamo fare Tanto queste le farò Off Eccetera Eeeh Scusami Dylan Eeeh Quindi niente Fatemi poi sapere Eeeh Però hai rotto le palle Eeeh Di parlarmi sopra Quindi comunque Fatemi sapere Se vi fa piacere Due video a settimana Di State of Decay 2 Magari potremo fare Che non conteremo Il video Quello del trailer Di Hydor Dai Come video Non lo so Quindi magari Questa settimana Potrebbero essercene tre Ma non prometto niente Quindi niente Spero che il video Vi sia piaciuto Io ringrazio Per chi c'è stato Fino alla fine Eeeh Vi ricordo che In descrizione Trovate tutti i link Pagina Facebook Discord Telegram E se volete farmi Qualche domanda Per un tipo Fuck qualcosa Scrivete Hashtag Questions Eeeh Niente Scrivetemi qualche domanda Se volete Quindi niente Vi ringrazio per la visione E alla prossima Ciao ciao